Allora, salve raga, allora, prima di parlarvi dei Napoli Feyenoord, vi spiego un concetto, facciamo una piccola chiacchierata su certe cose. Allora, molti sanno che io, insomma, il canale YouTube, nel senso non posso più fare video a pagamento come l'avevo messo prima, perché YouTube l'ha bloccato, insomma, sa un pa' ripete su certe cose che molti non sanno. E allora ho deciso, l'avevo deciso già su YouTube da fare l'appagamento per un certo sistema che non mi piaceva più, nel senso offese, sputtanamente, tutto il senso non state qua. Ho detto, faccio un canale, faccio YouTube, Miss L.C. Don Fee a pagamento. E l'ho fatto. Però, purtroppo, per tanti motivi, diversi motivi, mi è stato bloccato il canale. Il mio canale, purtroppo, per un momento lo volevo eliminare, però non lo posso eliminare. Manco io lo posso eliminare. Manco YouTube me lo elimina, perché ci stanno degli iscritti che hanno pagato annualmente e fino a chi non arriva l'11 giugno, il momento che è stato bloccato il canale, non lo posso aiutare. Purtroppo, me lo devo tenere fino all'11 giugno dell'anno prossimo. Ok? Questo è il quanto. Perciò, anche se io offendo una morte, per farvi capire, me lo sospendono, ma non me lo blocco, non me lo chiudono. Purtroppo, purtroppo, per il momento, non me lo chiudono io, non posso chiudono, purtroppo. Perché per questi, perché c'è gente che ha pagato a suo tempo, e quella gente che ha pagato a suo tempo è passata col pagamento su YouTube, è passata su Canalism Edge, Aria Max. Ok? Che molti non sanno. Allora, Aria Max, vi spiego una cosa, che molti, molti ignoranti non sanno. Allora, io ho fatto un canale privato. Aria Max è un canale privato. Sapete che cosa significa privato? Ve lo ridico. Privato significa che lo vedono solamente gli iscritti, non è pubblico. C'è differenza tra pubblico e privato. È come se tu vai a un bar o vai a un circolo privato. Cambia tutto. Ti devi fare la tessera o devi pagare. Ci stanno i club privé, ci stanno un sacco di cose che sono private e è solamente per quelle persone e basta. Non si divulga niente, non vedi nulla, ma solo chi paga è iscritto a quel canale perché diciamo è come se fosse un socio. Ok? È un canale tutto regolare. Ok? Qualcuno mi ha scritto, dice, la polizia postale l'ha avvisata. No, la polizia l'ho avvisata io alla polizia postale. L'ho avvisata io. Due volte l'ho chiamata. Uno, per un motivo. Per dei coglioni che rompono il cazzo. E due, per tutti coloro che magari diffameranno o magari vedrò anche su altri canali perché tanti amici mi segnalano. Dicono, guarda Max, questi hanno scritto questo su The Day. Se ci saranno parole pesanti in modo che feriscono una persona o magari quello che è il contesto. Allora, scatta la denuncia della polizia postale. Io mi sono messo in contatto, ho il telefono, ho tutto, ma ci parla a voce che la polizia postale. Mi sono messo in contatto con loro. Qualsiasi cosa, se sarà grave, ritenuta grave, contatterò la polizia postale e ci scatterà la denuncia. Già ho avvisato l'avvocato in Italia. No, qua, in Italia. Io ho avvocato in Italia. Perciò l'avvocato ci è perso dall'Italia e poi dopo, io quando sarà il momento, se sarà, vengo su. Se sarà. Ok? Perciò io vi metto, vi sto, ve lo sto dicendo, poi ognuno facesse come cazzo gli pare. Perciò qualsiasi cosa che sarà fatta sulla mia persona, su quello che io ho, scatta la denuncia, la querela, la diffamazione. Ok? C'è sta Vittorio Sgarbi e Travaglio che ci campano da rendita su queste cazzate qua, non su queste cazzate, su queste cose che ecco, ma detto stronzo, mi ha detto quello, te querelo. 30.000 euro, 50.000 euro. Poi magari danno pure in beneficenza, per farvi capire. Perciò, siccome io mi sono rotto i coglioni, perché c'è stata tanta gente che ancora non l'ha capito e tanti si permettono di offendere alla persona gratuitamente. Ma quello che è stato, tutti sbagliano, no? Ok? Però c'è sta gente, io ho levato questo canale, l'ho voluto fare apposta per le mamme e dare la rottura del cazzo che ho su YouTube. Per questo non metto più i commenti, non ti faccio commentare, perché dopo mi tocca cuore latte o denunciatte. Ok? Perché adesso ho cambiato sistema, perché mi sono rotto il cazzo. Ecco perché ho fatto un canale privato, privato, solo i privati e gli iscritti possono vedere, non è pubblico, tutto il mondo non lo vede nessuno, solo i privati, gli iscritti lo vedono. Perciò, se tu dici o pensi che io ho fatto un'infrazione, tu lo dici, lo scrivi, lo sottoscrivi come quello che ha scritto quella cosa là e ho detto ok, tanto anche se tu metti un nickname del merda, se si risale, se sai da chi cazzo sei, si sa chi cazzo sei. Perciò è inutile che metti pip to pip un palle giù. Tanto se sai che sei, che ne so, Mario Rossi, lo sanno. È inutile che tu metti un nickname del merda, perché se risale a chi cazzo sei, ok? Perciò io vi sto avvisando, perché non è che tu sei nascosto con un nome nascosto e non ti fa vedere, non ti fa vedere la faccia, tanto lo sanno chi sei, dove abiti indirizzo, lo sai. Perciò lo sanno, ok? Questo è il quanto. A me non me ne frega un cazzo. Adesso cambio sistema, perché le offese, le ingiurie e molte cose molto pesanti, basta. Cambiamo sistema. Perciò ho fatto questo canale, Canalism Magic, Area Max, che comprende tutto questo. Privato. Sai che significa privato? Che solo i privati ci possono essere. È come un club privé, è come un circolo privato. Se non hai la tessera e non sei iscritto, non hai pagato, tu non puoi entrare e non puoi vedere nulla di quello che succede, perché non è pubblico. Ok? Perciò. se le cose non le sapete, ecco, io non divulgo un cazzo, ok? Non divulgo un cazzo. Perciò il primo che dice, tu divulghi e metti le partite, le fai vedere, io ti querelo, ti querelo subito e immediatamente, perché non pubblico un cazzo. Ok? Ti querelo immediatamente, ti querelo. Tanto se non c'è il nome del merda, tanto chiamo la polizia postale, questo signore si è permesso così e così, mi ha diffamato e io ti querelo. Ti querelo. Se cambia sistema, perché qui avete rotto proprio il cazzo, siccome non conoscete un cazzo e non sapete un cazzo e parate a sproposito, è meglio che investiate il city. Ok? Io ve lo dico, lo dico per vostro bene. Come ho detto, Travaglio si è fatto, si è fatto i milioni di euro, si è fatto con quei querele. Ecco, perciò. Allora, ragazzi, allora, allora, allora. Perciò, se vi volete iscrivere a Canalismed e entrare in un canale privato, in un canale privato, dove solamente gli iscritti si stanno e basta, non lo vedono tutto il mondo, non lo vedete nessuno, solo gli iscritti, potete iscrivere, pagate una quota di 24 euro e già sta. Avete diritto a una vacanza, a due vacanze gratis, avete diritto a tante altre belle cose, sconti vacanze, avete diritto a vedere le live, le live, gli eventi sportivi, non c'è problema. Solo in privato. Ok? Ok. Chiudiamo sta parentesi, metto il numero sotto, se volete contattarmi con il numero sotto, vi contattate, mi iscrivete con il numero, oppure su Canalismagic ci sta il numero, su Ariamax è il mio numero, non scrivete minchiate sul Whatsapp, perché poi, come uno stasera, oggi stasera mi ha scritto, posso segnare sul canale tuo? Ti posso mandare un assegno, un assegno postato da due mesi? Ma che cazzo di coglione sei? Fammi capire. Vabbè, sciopera, poi sono bloccato, ecco, perché questa gente ha di solo che bloccato. Basta che dicono minchiate. Ci stanno dei metodi di pagamento. Banca, Paypal, Neteller. Tre metodi. Perciò, metti la P e paghi. C'hai tre metodi, se vuoi fa parte, se no mi chiami personalmente e ti faccio io tutta l'iscrizione te la faccio io, ti porto io, ti iscrivo io e poi ti do tutto quanto, ti do la pass e dopo la cambi. Come faccio? Ho fatto con tanti. E tanti dice, Max è un po' difficoltà, te lo faccio io. E li ho aperto il canale tranquillamente. Poi un'altra cosa, ho messo gli iscritti a pagamento, ho messo gli iscritti, ho fatto rivedere gli iscritti quelli che ho su, sul mio canale, sul Ministero di Jason Fay, perché io questi video in chiaro, qualche video in chiaro lo faccio per quelli iscritti che ho ancora. Ho 16.000 rotti iscritti, ne avevo 20.000, molti sono passati sul canale Smegy, altri si sono levati. Perciò è normale che non ti puoi iscrivere, perché per iscriverti, aumentare gli iscritti sul canale, su le Jason Fay, devi pagare, perché YouTube se vi fa i sordi YouTube, se li prendono loro. Ok? Perciò, visto che è questo, io ho regalato i sordi YouTube, i video sono chiaro, quelli che trasmetto, come questo qua. Allora, perciò, se vi interessa, passate sul canale, è privato e avete tante belle cose. Ok? Molti si stanno ancora iscrivendo, tanti si stanno iscrivendo, sono felicissimo. E la partita della Juve, adesso veniamo al Napoli, Napoli stasera è il Napoli-Corfei, hanno vinto 3-0, 3-1, che poi è l'ultimo minuto, l'ultimo due minuti, insomma, si sono fatti in culato, non si sono fatti in culato, gli hanno regalato quel gol. Allora, ritorniamo un attimo indietro. Allora, la Juventus con la Fiorentina ha fatto 11 contro 10 e si è arroccata in difesa. E avete sentito le parole che ha detto Allegri? L'altro giorno le avete sentite, no? Ho cambiato perché avevo bisogno di un sostegno al centrocampo per cercare la fase difensiva per cercare di non fare, insomma, se dobbiamo difendere, come al solito. Io mi sono incassato, mi sono incassato, ho fatto quel video e ho detto, ma com'è possibile? Un allenatore del genere. Gioca con la Fiorentina che non è una squadra, non è il Barcellona, non è neanche il Real Madrid. Stanno in 10, tu sei in 11 in casa, tra Rocchi in difesa, per difendere un 1-0 di merda. Mi sono cassato perché è normale. Tu non sei la Juve. Allora, sei una squadra di merda, allora, a questo punto. Tu consideri la Juve una squadra di merda? Quest'allenatore, voi che difendete tanto questo cazzo di allenatore, è normale che mi incasso. Perché la Juve è forte singolarmente, ma come gioco? Fa schifo. Allora, io mi sono incassato. Ho detto, dico, non è possibile, ma non è tutte le volte sempre stato gioco del merda. Allora, tornando indietro, a Torino ora, Torino, Juve Torino, io facendo questo video, mortificando, e poi l'ho messo in chiaro Juve Fiorentina, Allegri ha fatto, è passato in attacco, ha giocato quasi tutta la partita in attacco. E se la partita finiva a 10-0, ci stava pure stretto, ci stava stretto. E io mi sono incassato, ma tanti questo video, il promo, che ho messo poi da dire, e ho detto, passate su Aria Max per ascoltare, mi hanno detto, ah, ma questo è matto di qua e di là. Perché la gente non capisce, non ci arriva a capire. Perché è limitata di cervello. Cioè, veramente, siete limitati di cervello. Allora, io dico una cosa, no? Sarri, con una squadra molto inferiore alla nostra, perché Napoli come singolarmente più inferiore, e poi come gruppo, nel senso come parco giocatori, la Juve ha più ricambi, ha molte più scelte, capito come? Napoli c'era meno, è un po' più limitato come giocatori. La Juve ha diversi campioni più forti del Napoli, però Sarri riesce a valorizzarli. Allora, se Napoli ha fatto con la spara una partita così così, e l'altro giorno pure un'altra partita così così, Learte ne fa belle. Su 10 partite ne fa 8 buone, belle, che te fa vedere un bello spettacolo, e tu magari te merda. A differenza della Juve, che su 10 partite ne fa 8 di merda, e due forse, ecco, come quella del Torino, era tanto che non vedevo la Juve così, era tanto proprio che non si vedeva una Juve così, ne fa de merda. Una buona, una discreta, e 8 di merda. A differenza della Napoli fa 8 belle. Ok? E forse due de merda, forse. Allora, è questo che dovete capire. Con una squadra del genere, tu mi dici, sì, ma Sarri non vince, non vince lo squadra, grazie al cazzo, non c'è giocatori che c'è la Juve, è quello che tu non capisci. La Juve vince perché hai singoli, coi singoli è forte, e coi singoli ti risolve molte volte la partita. Siccome tu il pallone non lo vedi, non so come cazzo lo vedi, e questa è la tua disgrazia, che tu ce l'hai al cervello ottuso, ce l'hai annebbiato, e questo è il problema tuo. Non vedi, perché se un tifoso corpara occhi, ho sempre detto, se dei tifosi chi para occhi... Allora, se Sarri fosse stata la Juve, vinceva 3 Champions League con questo gioco qui, 3 Champions League perché hai giocatori per farlo, e Allegri, domenica, l'ha fatto, non si è cagato sotto, il cacon, non si è cagato sotto. Forse avrà visto il mio video che mi sono incassato perché su YouTube e su internet sono l'unico che l'attacca, e dice le cose come stanno, e nessuno ha il coraggio di ria che fa un gioco di merda, nessuno, su YouTube solo io, io dico, forse, forse qualcuno l'attacca, ma non come me, ok? Perciò tu questo gioco, quello che ho visto col Torino, lo potresti fare sempre, e lo dovresti fare sempre, perché hai la squadra e i giocatori per farlo, e te l'ha dimostrato domenica. Però purtroppo, il problema è questo, che siccome Allegri diverse volte in questi anni ha fatto qualche partita buona come questa, poi è ritornato, è ricascato al solito gioco di merda. Ecco perché mi sono incassato. E il video, quello che poi ho fatto il promo, e ho detto passate qua su Juve Torino, e ragazzi sull'area max, mi hanno fatto mezz'ora d'applausi, per quello che ho detto. Perciò, a me, non mi potete rompere il cazzo, perché non capite nulla di pallone, non ci capite nulla, voglia che voi dite che io non capisco un cazzo. No, siete voi che non capite un cazzo di pallone, proprio questo è il problema vostro. Non ci hai capito un cazzo. Voi basta che vedete la vittoria, è tutto a posto. Non è così, perché il calcio è spettacolo. Io vedo il Napoli, e quando vedo il Napoli, mi piace vedere il Napoli, perché fa un ottimo calcio, quello è calcio. Il gioco di Allegri è la merda, è la merda, è la merda, è la merda, ok? E io, la Juve che gioca di merda, non mi piace vedere la Juve di gioca di merda, la Juve. Ok? Non mi piace. Io voglio vedere la Juve che gioca come l'altra sera, sempre! O magari ogni tanto può capitare che gioca male. Come capita con il Napoli, può capitare. Ma non sempre che giochi di merda, e ti affidi al singolo. Perché la società ha cacciato un sacco di sordi per questo qua. Gli sta dando un sacco di sordi, e mi fai vedere sempre un gioco di merda. E mo' domenica, la domenica, Cortorino, che ha vinto, e mo' vinto Cortorino, mo' adesso hanno subito, sono sciti fuori tutti l'allegretti, no? Ha visto che? Hai visto cosa? Che cazzo hai visto? Ha visto una, ne vedi? E poi magari dopo ritorno un'altra volta come prima. Lo devi fare sempre, perché io non avrei motivo di attaccare lo st'allenatore, se farebbe questo gioco. Non avrei motivo, anzi, anzi, è questo che non capite voi. Ma voi non avete mai capito un cazzo, e questo è il problema vostro. Comunque niente, vabbè, ritorno al discorso. Se vi volete iscrivere, Aria Max, perché io promuovo i miei 16.500, quanti sono iscritti che stanno sul canale Mr. Leccesonfet 2. Io lo faccio per loro. Poi se gli altri non sono iscritti, non è un problema mio. Io lo faccio per loro, perché dico, ragazzi, se vi interessa, da qui l'iscrizione la togliete e la passate là, se vi va. Ok? Questo è il quanto. Perciò, ora vi lascio il numero sotto l'altra porta. Se volete, c'è chi si iscriva normalmente, entra con... O se no mi contattate direttamente, col numero che vedete sull'area Max. Questo è il numero. Mi contattate e ora ve lo lascio qua sotto. Ok? Comunque, Napoli ha fatto una gran bella partita. Una gran bella partita. Domani tocca a noi. Domani tocca a noi e vediamo un po' quello che succede. Certo. Tocca a vincere. Tocca a vincere, ragazzi, per forza. Per forza, perché sennò la cosa si mette male. Ok? Ragazzi, se vediamo domani con la partita. Ah, la partita la darò solo per gli iscritti in privato. La partita, sempre se la connessione legge. In privato. Mettetevelo in testa. In privato. Ok? In privato. E ricordate quello che ho detto? Il primo che mi dice, io divulgo, lo querelo. Ok? Ve lo dico proprio. Parola. Allora, tu in privato, entri e la vedi. Solo in privato si può vedere. Perché lo posso fare. È privato. Come un club privé. Ok? Vabbè, ragazzi. Io vi saluto. Ci vediamo domani sera. Poi dopo faccio pure il commento della partita. E niente. Questo è il quanto. Forza Juve. E se vediamo domani. E se vediamo domani.